E' quando mancava un'intenzione di attenzione, ma lui mi sta di là. Capito? Andiamo a destra. Andate sempre di là. In fondo. Vai, spostati. Attenzione! 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 Musica Io penso che il cinema sia il linguaggio dell'invisibile, il cinema vero riesce a guarire lo sguardo dal visibile, lo sguardo è malato di ciò che si vede soltanto, anzi spesso le persone guardano e non vedono. Musica Musica